Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Alessandro, tanti auguri a te. E cos'è? 85.000 iscritti. Siamo arrivati Alessandro, siamo arrivati a 85.000 iscritti. Ragazzi, curatemi intanto, che mi maggio la tortina. Alessandro si cura con la panna cotta. Alessandro ringrazia e mi dici che sei su iscritti. Grazie. Adesso qual'è il tuo prossimo obiettivo? Mille, mille. Altre mille. Altre mille? Vorresti arrivare a 86.000? Va bene, salutami, dico. Ciao.